Livello 14, lui è il più alto che abbiamo aggiunto No Ma lì vedi i dinosauri? I dinosauri là? Guarda lo sgabello con la rana Non ci credo Ma è notato che poi c'è Praticamente sono rivolti verso il tavolino Ci sono le pizze, la birra e la torta Cioè sicuramente stanno cenando gli animaletti È fantastico Geniale E ragazzi come va? Io sono Fereniki E io sono Steph E questa gioca è più di Pi Simulator E guardate ragazzi quanto è onnerdato Steph Livello 12, guardate la stanza quanto è grande Guardate tutti gli oggetti Gli spalli, ciò gioca anche una mezz'oretta Che non abbia neanche dormito in questi giorni Da quanto gli piace questo gioco Da quanto ci piace E guardate tutto quello che siamo riusciti a ottenere Ma soprattutto, cosa più importante Hanno finalmente sistemato il sistema amici Quindi siamo riusciti ad aggiungervi E finalmente oggi vedremo anche le vostre stanze Esattamente Spero vi siete preparati bene Abbiamo giunto 76 di voi Ce n'erano alcuni che non funzionavano i nomi Altri che ancora non risultavano credo pubblici Non so bene perché Speriamo che comunque siate tra questi che abbiamo selezionato Ovviamente non riusciremo a farvi vedere tutti in questo video Perché siete 76 Cercheremo di dare priorità ai livelli più alti Perché comunque Chi è livello 2 e livello 3 Secondo me non riesce ancora a dare in modo carino alla camera Quindi cerchiamo di vedere quelli un po' di livello più alto Per vedere le cose più interessanti Assolutamente sì Prima però Allora prima di tutto riceviamo i regali Perché mi piace sempre ricevere dei bei regali Grazie E inviali pure L'invio a tutti i consolini Guardate sono Babbo Natale Vedo che siamo quasi a 100.000 iscritti 99.949 L'ho messo lì perfetto perfetto Pronto per questo video Così faremo assieme i 100.000 iscritti Vedremo se capiterà Se c'è qualcosa in più Di sicuro ci saranno dei talenti interessanti Che potremo aggiungere Inoltre cercheremo anche di far arrivare queste spedizioni Dove mancano ancora 5 ore Sì perché siamo arrivato a 9 ore di spedizione per degli oggetti Aiuto Che ci permetterà di fare il livello 13 Sbloccare altri oggetti E vedere quindi un pochettino Tra un po' diventa Di cose carine Come la spedizione di Amazon Che ti è arrivato dopo due giorni Esatto Una settimana Ok Un'occhio Allora Sì Fai vedere anche la mia stanza al volo Facciamo vedere anche i progressi Ma prima vediamo la mia Perché nessuno Non l'abbiamo analizzata Allora Io ho fatto una cosa fantastica Sì Poi te la faccio vedere Ok Ok Allora abbiamo questa parete bellissima Che è un misto tra musica Street art Port Piantine E cose varie Una batteria Perché mi è sempre piaciuta la batteria come strumento E' fighissima da vedere Quindi ovviamente non vedo l'ora di sbloccarla È più mia che tua Livello 9 Anche tu non hai scherzato Guarda sono un tantino così da fare il 10 Ma ti sembra Volevo fare il 10 per l'episodio Invece non ce l'ho fatta stamattina Allora mi faccia vedere un pochettino Ma non è aggiornata Ah Perché Ah Vabbè Allora ti faccio vedere quello che c'è Sì Purtroppo non l'avevo aggiornata Mi interessa solo far vedere una cosa Guarda come ho organizzato gli animali Praticamente questo non lo capirà nessuno Quindi lo spiego Ok Il dinosauro sta suonando la pianola Ok E nella mia stanza aggiornata Gli ho anche messo il microfono Perché è anche il cantante E il gattino e l'altro mostricciato Lo stanno ascoltando il concerto Tipo vedi il mostricciato lo balla Il gattino dorme Perché i gatti tanto dormono sempre E sono molto soddisfatta Ok Comunque qui avevo fatto anche l'angolo tv carino Vedi il mobile me lo segna ancora lì Ma in realtà è sopra Cioè sotto la tv Diciamo che ho fatto anche qualche altra cosettina un po' carina Però purtroppo nella giornata Ci accontentiamo così Apprezziamo lo sport No 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 Mi sono sforzato davvero tanto Allora Partiamo dai 100.000 iscritti Assolutamente Boom Boom 100.000 Allora mettiamo giusto al volo A registrare altri due video Oggi non riesco a beccare Le cose che sono di tendenza Sì capito anche a me Non riesco Ci sono giorni in cui non ti capitano Proprio le cose di tendenza Infatti non fai troppe vispera Ok Quindi 100.000 iscritti Finalmente Adesso qua Guarda cosa possiamo sbloccare Allora giù un pochettino Perché non si leggono mai le cose Ok bravo Sblocca pubblica 3 75 Ok non ce li abbiamo No Però se riusciamo a farci Arrivare le spedizioni Appunto riducendo il tempo Con il pagol Potremmo riuscire a prendere Esattamente Sarebbe fantastico Fare 3 video in contemporanea Sarebbe davvero fantastico Quindi questo è l'obiettivo Mi aspettavo che costasse 50 Infatti ne avevo 66 conservati E sbagliato Mi hanno fregato Mi hanno fregato Però pubblicare 3 video alla volta Sarà fenomenale Aquilozzo Comunque ragazzi Vi spieghiamo anche un po' Il senso del gioco Perché secondo me Questa cosa non si è ben capita Noi l'abbiamo Confrontato inizialmente Youtuber's life Ma non ha nulla a che fare Praticamente Noi qua Possiamo creare 3 stanze Ok Il senso del gioco Sarà qui Queste cose che stanno sistemando Praticamente Ci saranno Delle Diciamo Degli eventi A tema Tu dovrai cercare di fare Una delle tue 3 stanze Perfettamente a tema Con la cosa che ti viene detta Le persone Cliccando questo tasto Voteranno Le stanze delle altre persone Esatto E se riceverai un tot di voti Andrai in classifica Eccetera Riceverai tantissimi premi Infatti è fantastico È fantastico Assomiglia un po' a una build battle Però con delle stanze Uuuuh Centomila visualizzazioni Come ricompensa Mica male Mi piace tantissimo Allora Per il più Una delle missioni che ho Visita 5 stanze Quindi sono felice di farlo Ehm Allora Qua abbiamo fatto arrivare A 20 minuti Quindi adesso Visitiamo un bel po' di stanze I consolini Esatto Dopodiché Arriveremo al 13 E vedremo gli oggetti nuovi Sbloccati Decideremo assieme Due oggetti nuovi Da acquistare Prossima Poi Andrex 2007 Ok Vediamo Vediamo Uuuuh Ha messo un sacco di roba Ha messo un sacco di roba Forse non sa che si possono depositare le cose E l'Expo rimane Perché a me questa cosa ha fatto venire tanti dubbi E l'avevo sperimentata dopo un po' di tempo Magari se ha voluto oppure no Magari gli piace così E potrebbe essere Però ha messo un sacco di tappeti Mi piace tantissimo il personaggio Come se l'ha fatto Mi piace davvero tanto E' vero i capelli blu così Sono fighissimi E' carinissimo Poi E' Engilol Engilol Ok Ho già visto che c'è Chuck Norris A livello 14 Addirittura più alto di me Questa è bellina Io non ci avevo pensato di metterlo E poi guarda la cacchina La cacchina è fantastica Ce l'ho anch'io Anche se non l'ho messa in stanza È davvero fantastica Anche il letto Alla fine lo sai che io pensavo Che quella decorazione Risultasse un po' bruttina Invece messa così così Con i cuscini è davvero carina Non è male Non è male Mi è piaciuta Anna Roth Vediamo Dipende dai pensieri Ho notato che le ragazze Sono sempre più minimali Vedi sono sempre un pochettino Più ordinate Capite E giustamente Noi maschi Facciamo sempre tutto Boom 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 Una montagna E' bellissimo vedere Tanti stili diversi Ho notato che ha messo La paletta di make up Sulla tastiera È troppo carina È davvero troppo carina No 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 Qua sulla tastiera Vedi che c'è la paletta di make up È vero Non l'avevo vista Non sapevi neanche cosa fosse Una paletta di make up Ecco perché non la trovavi Niente Prossimo Allora A one console Ok quindi abbiamo A one console Bellino Bellino Mi piace tantissimo Come hanno sfruttato Quei comodini Quei mobiletti piccoli Io non ci avevo pensato Ne ho messo solo uno Però tre a fianco Sembra una cassettiera Ed è davvero Davvero E anche l'angolo musica Mi piace molto È molto bellino Tutti insieme così Ci sta bene Capitan Akab Livello 13 Questo sicuramente Vedremo una bella stanza Eh sì È anche E infatti Guarda che bella questa Che bello lo sfondo Ma io non l'ho visto Questo sfondo Dov'è? Ma ne hanno aggiunto di nuovi Perché davvero non l'ho visto È davvero bello Guarda lo sgabello Con la rana Non ci credo Ma è notato Che poi c'è Praticamente sono rivolti Verso il tavolino Ci sono le pizze La birra E la torta Cioè sicuramente Stanno cenando Gli animaletti È fantastico Geniale È davvero fantastico Bellissima Mi piace troppo È molto molto bella Questa parete comunque Esatto E mi piace molto Stia come abbinato Pavimento e parete È davvero bellissima Questa stanza Mi piace tantissimo Complimenti Capitano Fighissima Jack Norris Livello 14 Lui è il più alto Che abbiamo aggiunto No Ma lì vedi i dinosauri I dinosauri là È fantastico Bellissimo No ragazzi Avete una fantasia Incredibile Io non ci avrei mai pensato A fare Ma poi quante birre Si è messo qua Guarda E vabbè Magari gli piace la birra Cosa se ne frega E c'è anche la birra Analcolica Allora Questa si chiama H-Z-N-S Scusa ma non so come si Deva pronunciare Bellissimo Livello 11 Ti faccio notare Prima di tutto Che è una papera E mi fa morire Bellissimo Sta urlando Come un passo Probabilmente arrabbiata Quando fai video Scusa Tu se fossi una papera Che deve far video Non saresti costantemente arrabbiata Moltissimo La cacchina nel letto Comunque davvero carina La retta del letto Mi piace come l'hanno sfruttata E mi piace anche tutta questa zona TV Libreria con i giochi Mi piace Anche questa scritta è bella Sì ci sta benissimo Non mi dispiace per niente Complimenti Molto molto carina Guarda che figata Che ha fatto qua Qui ha il comodinetto Col pesce E il joystick Quindi lui si siede qui A registrare Perché qua c'è la console La videocamera Qui ci sono le casse E le due cose Con tutti i giochi Le due librerie Con tutti i giochi E guarda lì a fianco Anche la tavoletta grafica Questa postazione Mi piace troppo Diciamo che registra il pc Poi si siede qua Fa i giochi da console Esatto E con la tavoletta grafica Si fa le miniature Come faccio io Ha proprio ideato Una stanza per il recording Quindi al pc E alla console Mi piace moltissimo Davvero davvero carino Dopodiché ci manca Tommy Games Channel Sempre di livello 12 Stiamo andando su quelli Un pochettino Di livelli più alti Perché appunto Hanno più possibilità E anche lui Ha puntato molto Sulla postazione Sulle registrazioni Addirittura doppia videocamera Che è super professional Che bello questo pavimento Mi piace un sacco È davvero bello Mi piace davvero tanto Ricordo di averlo sbloccato Io non l'ho sbloccato Però è davvero bello Come ci stiamo Mi piace Mi piace anche qua È carino Mi piace molto anche questa Complimenti quindi anche a Tommy Games Channel Molto molto belline Ci veniamo così Con la visita delle stanze Se faremo altri episodi Di questo gioco Continueremo a visitarne tantissime Promesso Adesso però È ora di fare il livello 13 E di aprire le due cose Che sono arrivate Questo è un uovo di dinosaurio È un uovo Molto bello Cioè di tutti i colori Per tutti i gusti Ho intenzione già di depositarlo Perché a me non piacciono Però mi serviva qualcosa Da comprare No però potrebbe essere carino In base a quale tema Si esatto Si può fare negli eventi Infatti me li sto collezionando Non vogliamo votare il gioco adesso Vediamo l'altro oggetto Questa è fantastica È fantastica Mio Dio Ma non trovo L'avevi detto che avevi sbloccato Una cosa così bella Mi ero già dimenticato È bellissima Oh mio Dio Mettitela nella scrivania Aspetta Guarda dove l'ho messa qua Aquila L'hai vista dov'è Sì Guarda E si muove sempre È bellissima Ti giuro è bellissima È bellissima Lo so Poi forse la sistemerò anche meglio Questa lo deposito Perché appunto non mi piace Quando è troppo caotica la stanza E andiamo a vedere subito Quello che abbiamo sbloccato Giusto No No cosa stai facendo ora No possiamo sbloccare Il pubblico a tre video Oh finalmente Quindi adesso Noi possiamo mettere A registrare Il terzo video Bellissimo Che è fantastico Davvero guardate qua Tantissime visualizzazioni Arrivano Bius ed iscritti A palla E adesso vediamo Cosa abbiamo sbloccato Tante cose Vai Tappeto Bellino Bellino mi piace Questo cosa sarà 610.000 insomma Il tipo il bong Non mi ricordo come si chiama Sono le percussioni Bellissimo Questo lo comprerò di sicuro A fianco alla batteria Ci sarebbe Cespuglio molto bellino Carino Ok poster Profiste Ne abbiamo tanti Niente di che La polaroid Bella Sì però non dà Nessun tipo di cosa Vedi Non dà Esatto bonus Carino Questo me lo comprerò sicuro Molto molto carino Quelli cosa sono E non capisco Non lo so Secondo me ho cibo per animali Qualcosa del genere Pozioni Belline queste Belline Davvero carine Queste sono molto belline Poi E Money Subito E money Saranno ovunque La stecca La stecca da biliardo Bellina 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 È una sedia Molto 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 carina Allora Vai nella lentina Voglio un attimo elencare Stecca Soldi Sedia Pozioni No le pozioni La sedia te la stai dimenticando No sto elencando quelli che comprerò Ah quelli che comprerò Stecca Soldi Pozioni E tamburo Ok Ok E iniziamo dal tamburo È davvero grande però Pazienza Vicino alla batteria Guarda perché i tamburi hanno senso vicino alla batteria Così Sì esatto Secondo me è molto 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 carino Quanto mi costi 12 ore Per farla arrivare E vabbè una vita Una vita Siamo sicuri Vabbè 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 Me ne farò una ragione Allora qui abbiamo sbloccato un nuovo pavimento Fammi vedere Che è questo qui Proviamolo È carino Non è male Strano Molto particolare Molto da bunker tipo Esatto E poi una nuova parete Che stanno diventando davvero fantastiche ormai Oh Bellina questa Più bellina della tua Sempre sul rosso Sì Però è davvero davvero carina Mi piace un sacco Guardate che bella anche questa Eh questa per qualche stanza tema È fantastica Davvero fantastica Costano davvero tanto Ma sono bellissime Anche questa Ha un bellissimo effetto Ha un suo perché Esatto Se si mette nella stanza giusta Anche questa è fantastica Comunque quindi 100.000 iscritti Livello 13 Abbiamo visto un sacco di stanze di consolini Davvero fantastiche A me il gioco sta continuando a piacere Ovviamente spero che sbloccheranno questa funzione il prima possibile Noi credo che non registreremo altri video Fino a quando queste funzioni non saranno disponibili A quel punto proveremo queste funzioni E vedremo se vale la pena continuare a farci dei video O se fermarci così Perché comunque Altrimenti non è che ci sia troppo da farvi vedere Quindi secondo me questo è il fulcro del gioco E dobbiamo aspettare che lo si temino Assolutamente sono d'accordo Beh ragazzi il video finisce così Se vi è piaciuto lasciatci un bel like E se è la prima volta che vedete il nostro video Potete considerare il video di Scream Review Per notarvi gli altri episodi Ciao e alla prossima Ciao 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 Ciao